Nella giornata di sabato sono apparse sulle vetrine di molti negozi udinesi le scritte i commercianti udinesi non condividono le scelte di questa giunta. Una generalizzazione che chiaramente non ha trovato assoluto consenso come in ogni cosa e che è stata contestata aspramente nello specifico in maniera pubblica con un post Facebook da Umberto Sistarelli, candidato del PD alle ultime comunali udinesi. I commercianti scelgono la via del silenzio dopo la nascita di quello che l'opposizione definisce Vespaio. Michele Zanolla, consigliere d'opposizione, è tornato sulla questione richiamando anche il caso legato a Pietro Antonini. Umberto Sistarelli, segretario provinciale organizzativo del PD, parlando dei commercianti che protestano per la ZTL allargata e soprattutto protestano per la mancanza di parcheggi, Umberto Sistarelli dice una frase di questo tipo. Questi commercianti non sono tra i più qualificati e ovviamente mi sono ben guardato da dare il mio contributo agli incassi di questi commercianti. Cioè frasi allucinanti. Sentito poi dai giornalisti, dalle tv e dai giornali, Umberto Sistarelli ha dichiarato che non capisce tutto questo Vespaio simile per una banalità. Cioè lui considera queste uscite una banalità. Una presa di posizione netta anche con un attacco ulteriore al vice sindaco Venanzi. A me quello che piacerebbe sapere è che siccome Venanzi continuamente, l'abbiamo visto anche recentemente a Ring, dove non capisco perché poi non sia mai in trasmissione con gli altri consiglieri della minoranza a discutere, ma sia sempre a parte, cioè viene intervistato a parte ma non ci mette mai la faccia in un confronto con i consiglieri di minoranza, cosa che nell'altra legislatura invece succedeva, vorrei capire, vorrei sapere dal vice sindaco cosa pensa dell'uscita dell'ha detto stampa del sindaco nei confronti del gestore del bar, dove gli ha detto per me potete fallire tutti quanti, ma soprattutto cosa pensa di questa uscita del suo segretario del PD organizzativo. Cioè mi sembra, ve lo dico onestamente, che può dire quello che vuole il vice sindaco, però per me sembra veramente una guerra contro le partite IVA, contro le attività, contro gli automobilisti, contro i residenti, contro i commercianti di questa città.